Torna qua la zampa su Rossini TV a partire da martedì 3 maggio per 7 martedì insieme a Giacomo Lucchetti e insieme alla sua Juliet saremo qui per raccontarvi e parlarvi di animale. Jack, la seconda stagione è una bella iniziativa, l'anno scorso è stata tanto apprezzata, quest'anno ci porterai anche tu delle grosse novità. Sì io ti posso dire che sono contentissimo perché è un'occasione per me veramente importante per dare questa forte testimonianza alle problematiche che purtroppo legano il mondo degli animali specialmente nei rifugi e quindi insomma le novità anche quest'anno saranno tantissime, veramente sorprese di ogni genere quindi dai teniamo duro insomma. Teniamo duro davvero è un appuntamento che vi invitiamo a seguire con attenzione e con perseveranza perché le occasioni di divertimento ma non solo saranno tante, scopriremo tanti tipi di animali non solo come abbiamo già detto cagnoloni, mici ma proprio ogni tipo di animale che è possibile trovare nel nostro territorio con delle situazioni e con delle persone davvero straordinarie Giacomo. Assolutamente perché i personaggi che ruotano al mondo degli animali sono incredibili quindi ne vedremo veramente di belle. Ne vedremo delle belle anche perché c'è una continua testimonianza di affetto e di davvero buoni sentimenti e crediamo che in questo momento storico ce ne sia davvero tanto bisogno. Assolutamente e a fronte poi di una situazione che stiamo vivendo così difficile però vedere come le persone continuino a dare il proprio amore agli animali è una cosa che ti apre il cuore quindi bene così. Non dimentichiamoci quindi a partire da martedì 3 maggio per 7 martedì 7 straordinarie puntate di Quala Zampa insieme a Jack Lucchetti gireremo anche l'Italia perché lui va molto a cercare situazioni che non sono solo nella nostra provincia ma un pochino dappertutto. Per esempio Giacomo dove sei andato? Allora abbiamo girato un po' nel sud Italia e anche centro Italia ci sarà una missione molto importante dai diamo una piccola chicca dove giungeremo fino alla Sicilia quindi un qualcosa di molto molto forte porteremo proprio agli occhi dell'opinione pubblica determinate tematiche quindi sarà un qualcosa che è ancora più forte rispetto alle testimonianze che abbiamo dato nella precedente edizione. E poi è un'annata comunque già particolarmente bella per i nostri motori per i motori italiani e chissà che non ci siano anche sorprese in questo campo vero Jack? Sì ci saranno ci saranno e niente ancora non svegliamo niente però diciamo solo che abbiamo messo il mondo delle moto al servizio e in aiuto degli animali bisognosi. Quindi amiche e amici di Rossini TV non dimenticatevi a partire da martedì 3 maggio ogni martedì alle 21.20 per 7 martedì qua la zampa torna insieme a me e insieme a Giacomo Lucchetti. E ricordiamoci che la vita non si compra ma si adotta. Grazie. 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 Grazie.